Salario minimo, diritti dei lavoratori, investimenti nelle infrastrutture sono le condizioni che verranno poste dai socialdemocratici tedeschi per il negoziato di coalizione con la CDU di Angela Merkel. I leader della SPD hanno ottenuto il mandato dal partito per avviare la discussione da mercoledì in vista della formazione di un governo di grande coalizione, un mese dopo le elezioni.